Il cuore degli Ultras Curvasud Siberiano non ha limiti. In passato sono stati sempre pronti i vicini a sostenere chi aveva bisogno. Lunedì, in occasione della gara contro il Frosinone, sarà la volta di sostenere il piccolo Jenny che vedete qui con noi. Lui è affetto dalla CDG. Lunedì in ogni settore dello stadio, quindi Tribuna, Curvasud e Distinti, ci saranno degli stand in cui potrete lasciare la vostra offerta per sostenere ed aiutare Jenny. Inoltre, in sovrimpressione, vedete un IBAN a cui potete sempre destinare le vostre offerte. L'iniziativa nasce sempre da una richiesta dalle persone perché, come tutti ben sanno, noi come Curva siamo sempre pronti a dare una mano a chi fortunatamente è nato un po' più sfortunato di noi. Detto questo, noi vogliamo invitare lunedì sera tutta la tifoseria soleditana, compresa la provincia, per dare una mano grande a questo piccolo bambino che si chiama Jenny, un bambino di Pagani, dove è stata creata un'associazione dove, facendo questo contributo libero, si darà modo di esprimere e di cercare di trovare qualche cura per questa malattia, non solo per Jenny ma anche per tanti altri bambini. Noi quando sono bambini siamo toccati perché, come qui potete vedere, la maggior parte di noi siamo genitori. Detto questo, siamo sicuri che il grande cuore della nostra Salerno e con la provincia ci darete una mano a farsi regalare momenti di gioia a questo bambino insieme agli altri bambini. La solidarietà non ha limiti, il loro cuore non ha limiti, noi contiamo su di voi e soprattutto il piccolo Jenny. Grazie a tutti.